Nuovo sollecito dei lavoratori Treofan affinché venga convocato un incontro in tempi brevi al Mise per discutere della questione che riguarda la vendita della società agli indiani della Gindal. Un confronto più che necessario anche alla luce del riavvio della produzione negli stabilimenti di Terni ed in Germania presso i quali sono stati spostati gli ordini che erano in capo all'azienda di Battipaglia. A fare il punto della situazione Alberto Padula, rappresentante sindacale della Cisla. Ieri è stato chiesto un'ulteriore accelerazione della data dell'incontro al Mise e in più abbiamo come sempre rimarcato il fatto che siamo pronti a ripartire e aspettiamo solo le resine. Tanto è vero che abbiamo fatto anche una sorta di apertura rispetto allo stato di agitazione in cui siamo stiamo dicendo che se avrebbero mandato le resine saremmo anche stati disposti a fare un passo indietro. Di tutta risposta abbiamo appreso che ieri nel primo pomeriggio c'è stato smantellato il pacchetto ordini nel senso che gli ordini che avevamo in portafoglio e che ci permettevano di lavorare fino a giugno sono stati dirottati sugli stabilimenti di Terni e della Germania. In più c'è stato anche un ordine che a Battipaglia non devono essere più spediti ordini di programmazione. Quindi perché la situazione attuale è che a Terni è nello stabilimento in Germania la produzione è ripresa? Sì, sì. Germania avrà fermato qualche giorno a ridosso delle festività natalizie e Terni è ripresa il giorno 2. Quindi ora le prossime mosse quali saranno? Stiamo studiando un attimo quelle che potrebbero essere le mosse rispetto a queste loro decisioni. Quindi per il momento siamo ancora qui e come hai detto tu c'è anche il tempo che ci riemo contro. Quindi il presidio permanente continua? Sì, sì, il presidio permanente continua.